Iniziativa Value, che cos'è? Ce lo racconta Giovanni Caturano di Spin Vector SPA. Benvenuto al premio Best Practice. Grazie, io sono l'amministratore delegato di Spin Vector che è la prima azienda nel meridione, diciamo 100% sud, ad aver avuto un finanziamento da parte di fondo AVM, Atlanta Ventures Mezzogiorno, un'operazione molto importante che è stata seguita da Iniziativa Value, una società di Napoli che ci ha curato non solo la consulenza e l'organizzazione durante la trattativa, ma ci sta aiutando nella fase successiva ad affrontare i cambiamenti che ci sono quando si passa da una piccola società controllata essenzialmente dai soli fondatori a una struttura più grande e in fortissima crescita. Quali sono i benefici, i punti di forza di questo processo che avete attuato e iniziato? Innanzitutto il supporto nella fase delle trattative, le trattative in questo caso sono state molto lunghe perché appunto trattandosi di una prima esperienza un po' per tutte e due le parti, in qualche maniera, sebbene AVM appartiene al gruppo in Tesa San Paolo e quindi ovviamente ha alle spalle una tradizione di investimenti molto importante, avere un consulente esperto che si rendesse conto bene delle problematiche in questione sia dal punto di vista legale che dal punto di vista finanziario che dal punto di vista contrattuale è stato estremamente importante e questo ci ha permesso di poter non soltanto gestire bene il contratto in sé e quindi venire fuori con un contratto soddisfacente migliore di quello che avremmo potuto ottenere altrimenti, ma soprattutto di tener conto nella fase negoziale delle reali necessità dell'azienda in termini organizzativi e di crescita. Questo è stato particolarmente importante perché la Spin Vector di fatto sta crescendo a un ritmo circa due volte superiore a quello previsto, per cui l'essersi organizzati dall'inizio e di avere un supporto ad un'organizzazione è estremamente rilevante. Quindi è il caso di dire che i risultati superano le aspettative. Sì, senz'altro. Grazie al dottor Caturano di essere stato con noi e di averci raccontato appunto questo processo benefico, lo possiamo chiamare così, che è un percorso che hanno iniziato appunto con Iniziativa Value. Grazie di essere stato con noi.